Una due giorni con un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi della protezione civile, tutta dedicata ai ragazzi delle scuole e all'intera popolazione per imparare a conoscere i comportamenti corretti da assumere in caso di calamità naturali e osservare il funzionamento di un campo di accoglienza per sfollati con tende, cucina da campo, dimostrazioni, laboratori per tutte le età. Il giardino farnesiano a Lombardella Rocca San Vitale di Sala Baganza è stato il teatro di una maxi esercitazione con oltre 50 volontari, compresi il nucleo operativo cinofilo di Traversettolo e l'equipe psicosociale per le emergenze del NIP. Una simulazione organizzata dal nucleo di protezione civile di Sala e dall'unità di protezione civile di Parma dell'Associazione Nazionale Alpini, che ha coinvolto tutte le associazioni che operano in convenzione con l'Unione Pedemontana. La tendopoli è rimasta aperta al pubblico con percorsi didattici sui rischi idrogeologici, sanitari e laboratori per tutte le età. Tantissime le attività per i più piccoli, tra le quali l'uso di una motopompa a idrovora, la simulazione dello spegnimento di un incendio con manichette e la ricerca di una persona scomparsa con l'aiuto dei volontari a quattro zampe del nucleo operativo cinofilo. Durante le due giornate la cucina da campo ha funzionato preparando torta fritta e salume per i visitatori. Ai residenti nel comune di Sala è stato inoltre consegnato uno zainetto contenente un piccolo kit per le emergenze. L'esercitazione ha avuto come obiettivo la sensibilizzazione e la formazione di tutti i cittadini sulle tematiche di protezione civile perché siano essi stessi parte attiva dell'intero sistema per la prevenzione e la gestione delle situazioni di emergenza.